Oh, io adesso me ne vado. Beh, devo fare così fioni, mica posso restare qui a chiacchere con te, ciao! Ehi, ciao, ciao! Manco un mali. Mi chissero sprammata. Sprammata? Ma ti sei guardata? E figuriamoci. Tostara. Grazie, Pez. E mo chi è? Megalona. Uff, mi fai sempre incazzare. Stronza, ascolta, sono venuta a chiederti una cosa. Se mi lasci la casa, che mi sto cuccando un pivello. E vuoi venire a cordare qua? A casa mia? E va, bezza e merda. Quando ti chiedo una cosa io non mi dai mai soddisfazione. Sei una stronza, burda. Eh, allora? Allora niente. Ma scusa, non puoi usare i tuoi porteri e cordare in aria. Boh, proprio a casa mia devi venire. Ascolta, fai che me ne vado. Altrimenti ti piga a cropposo. Eh, già ci credo poco che te ne sia andata. Eh, già ci vediamo. Eh, ciao. Non è che c'è dei tappi di sughero, che c'è un mio amico che sta cadendo fuori. Eh, 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 eh.